Ciao! L'obiettivo di arrivare ad Ascoli Piceno a piedi. Dopo essere passati per Montefabri hanno fatto tappa a Urbino, dove hanno sostato la scorsa notte per poi ripartire verso Cagli. L'intento è quello di raccogliere fondi da devolvere al Comune distrutto dal sisma. La raccolta sta avvenendo attraverso le donazioni spontanee in denaro e la vendita di magliette, t-shirt realizzate appositamente per sostenere la causa, con la scritta Il coraggio non trema. I soldi raccolti verranno direttamente consegnati al Comune e alla proloco di Arquata del Trotto. Il Comune di Urbino invece ha messo loro a disposizione l'area del campo sportivo per sostare nella notte e fare una doccia ad accoglierli l'assessore ai servizi sociali, Giuseppina Maffei. Dopo Cagli il cammino sta toccando i comuni di Pergola, Arcevia, Cupra Montana, Cingoli, Macerata, Civitanova Marche, Fermo, Campofilone, Offida e infine Ascoli Piceno. Chi vuole aderire all'iniziativa può fare una donazione nel conto corrente dell'associazione che vedete adesso sul vostro teleschermo.